Devi prenderti moltissima cura dell'acqua perché è il 72% e ha un'incredibile memoria. Se tu la prendi e la bevi immediatamente appena esce dal rubinetto, avrà l'effetto di un veleno sul tuo sistema. L'aria viene influenzata anche solo dai suoni e dalle intenzioni e dalle emozioni. Prendi il sole sul tuo corpo ogni giorno perché la luce del sole è ancora pura. Grahanno, Satguru. So, I have listened to you saying that 70% of our body is water and if we drink the energised water, we can have grip on the body and mind. Is it true with the air and food that we drink? Because in the city we have delivered the polluted air and the air conditioned rooms in our company. So, could you please explain the Bhutashwati process in our labdai engine? Se dici alla tua azienda, sono disposto a lavorare senza aria condizionata, saranno molto contenti. Risparmierebbero un sacco di soldi, non è vero? E sarebbe un bene per te sotto tanti aspetti, ma... 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 Ora la città non è in quel tipo di situazione, per cui se apri la finestra non arriva la breath. Arriva fumo, arriva puzza, arriva polvere. quindi va bene è utile ma non devi stare qui seduto 24 ore solo per lavorare puoi fare una passeggiata appena puoi in ogni caso il 72 per cento è acqua 12 per cento è terra solo il 6 per cento è aria in quel 6 per cento di aria l'aria non è sempre nel respiro di quel 6 per cento di aria che c'è è solo meno dell'uno per cento quella che stai respirando il resto è semplicemente lì per alcune persone è concentrata nel cervello altrimenti in ogni cellula del corpo c'è aria quindi quando dici aria non è solo il respiro il 6 per cento dell'aria e in ogni cellula del corpo basta toglierne un po dal cervello ti farà bene va bene se è nei polmoni nel cuore nei muscoli funzionano meglio se c'è ossigeno sai lo sai se sei in carenza di ossigeno i muscoli si irrigidiscono perché questo ha bisogno d'aria altrimenti non funziona c'è così l'acqua è il 72 per cento per cui bisogna fare molta attenzione all'acqua perché è il 72 per cento se devi fare un esame ammettiamo sia così diciamo che devi fare un esame di fisica c'è l'acqua la terra questo quello ma il solo argomento acqua influisce sul voto per il 72 per cento naturalmente passerai più tempo a leggere sull'argomento acqua o no a studiare l'acqua sì o no l'aria è solo il 6 per cento potresti non studiarla perché ti va bene anche un 94 l'acqua la devi studiare perché influisce per un 72 per cento devi prenderti moltissima cura dell'acqua perché è il 72 per cento e ha un'incredibile memoria se apro quest'acqua anche se non l'apro se dico qualcosa a quest'acqua se lo ricorda ci sono stati un un sacco di esperimenti in questa direzione per cui se tu prendi quest'acqua dall'acquedotto e la pompi fino a casa tua diciamo che è passata per 50 curvature forzata pompata forzatamente con una certa pressione naturalmente esercitata e tu vivi al dodicesimo piano dell'edificio quindi è ulteriormente spinta su forzata ora dicono che se l'acqua passa per 50 curvature circa il 60 per cento diventa tossica se tu la prendi e la bevi immediatamente appena esce dal rubinetto avrà l'effetto di un veleno sul tuo sistema se la prendi e la tieni per un po si ristruttura di nuovo siccome la tossicità non è chimica è molecolare avvengono cambiamenti molecolari non avvengono cambiamenti chimici è per questo che tua nonna ti ha sempre detto devi sempre raccogliere l'acqua e tenerla tutta notte in casa in un recipiente ben pulito mettendoci sopra del vibuti del cuncum è un fiore sì o no nelle case che seguono le tradizioni la bevi solamente l'indomani mattina non appena entra in casa non la bevi perché porta con sé ogni genere di memorie in veri tradizional homes nelle case che veramente seguono le tradizioni la gente ogni giorno fa il puja al recipiente dell'acqua sì e non bevi mai l'acqua appena esce la tieni da parte le dai tempo a sufficienza per disfarsi da sola da qualunque sciocchezza abbia accumulato così che sia pronta per te quando la bevi dell'acqua ti devi prendere cura perché è il 72 per cento piccolo è prima classe capisci più del minimo subito dopo viene il cibo perché quello è terra 12 per cento sempre fondamentale o no quindi come il cibo entra in te da quali mani arriva a te come lo mangi come ti avvicini ad esso tutte queste cose sono importanti e poi viene la tua aria 6 per cento in quel 6 per cento solo l'uno per cento o meno è il tuo respiro il resto succede in così tanti altri modi e questo è importante soprattutto se i bambini almeno una volta al mese porta lì fuori da qualche parte non in un maledetto cinema di nuovo respirando le stupidaggini di tutti l'aria viene influenzata anche dai suoni e dalle intenzioni e dalle emozioni da tutte le porcherie che accadono sullo schermo e tutte le schifezze che si riflettono nelle menti umane violenza sesso bramosia questo e quello influenzano quell'aria chiusa nella sala in modo incredibile in that limited air in that hall in a tremendous way invece di portarli al cinema portali al fiume insegnagli a nuotare ad arrampicarsi in montagna dove sono le montagne sad guru limalaya è così lontano anche una collinetta è una montagna per il tuo bambino sì anche una piccola roccia arrampicati e siediti ci sopra i bambini si divertiranno immensamente loro si terranno in forma tutti terra in forma e soprattutto il tuo corpo e la tua mente funzioneranno in modo diverso e soprattutto sei in contatto con la creazione del creatore che è la cosa più importante non con le tue stupidaggini che hai creato se ti fanno comodo adesso ma non sono tutto quindi invece di andare al ristorante invece di andare al cinema invece di andare in qualche altro posto di questo tipo almeno una volta al mese non ti costa nulla e fare così non ti costa nulla ti puoi portare del cibo e mangiarlo lì visto che comunque ce l'hai non devi spendere soldi per questo ancora meglio se non vuoi spendere soldi neanche per l'autobus o la macchina potete andare tutti in bicicletta appena tre chilometri cinque chilometri fuori haiderabad sedetevi su una roccia passate del tempo lì sentite il sole è molto importante prendetevi un po di sole aria acqua buona tornate a casa stai facendo buttasciuddi in modo molto naturale non è il buttasciuddi per eccellenza ma stai facendo un po di buttasciuddi questo è quello che stavo dicendo proprio adesso se ti prendi cura del cibo dell'acqua l'aria non è sempre nelle tue mani perché vivi in città ma di acqua e cibo te ne puoi prendere cura e il tipo di fuoco che brucia in te anche di quello puoi prendertene cura la luce del sole non è diventata impura o no prendi il sole ogni giorno per favore prendi del sole sul corpo ogni giorno perché la luce del sole è ancora pura o no fortunatamente nessuno la può contaminare e che tipo di fuoco brucia dentro di te è il fuoco della cupidigia il fuoco dell'odio il fuoco del risentimento il fuoco della rabbia o il fuoco dell'amore il fuoco della compassione che tipo di fuoco brucia dentro di te prenditi cura di questo e poi non ti preoccupare del tuo benessere fisico e mentale è già risolto grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti